Amici del maescalco nero, esiste un giorno in cui una persona deve dare risposta a uno dei più grandi interrogativi sulla terra. Qual è la crema spalmabile più buona in commercio? Tra Nutella, l'infondente, crema pandistelle. Andiamo a vederlo! Incomincerò a spalmare la crema su questi tre pezzi di pane. Cominciamo con la Nutella, poi l'indettor fondente, Poi crema pandistelle, naturalmente lecco il coltello perché non vorrei che il gusto si andasse a mischiare. Eccolo qua. Crema pandistelle. Dal momento che potrei essere tratto in inganno nell'assaggio, dal sapere e riconoscere cosa sto mangiando, andrò a effettuare un blind test. Nel blind test mia moglie sposterà tutti questi pezzi di pane con la crema nocciola e io vendato, assaggiandoli, vi crederò qual è il migliore. Andiamo di blind test! Andiamo con il primo. Questo ha delle piccole parti croccate, quindi penso che sia crema pandistelle. Buono! Questo è Nutella. Posso avere un po' di latte per stemperare perché non riesco a sentire il gusto? LATTE! Posso avere l'ultimo assaggio cortesemente? Circa meglio! Allora... Questo però è pandistelle. Andiamo ad un altro assaggio. Questo è Nutella. Questo è un po' di latte. fondente il mio preferito crema pan di stelle e lo so perché c'era quella quella cosa croccantina buona follower è tutto alla vostra e alla prossima